Siamo alle solita la tonnara di Palmi nel clou della stagione estiva, il mare, fino a qualche settimana precedente tendenzialmente pulito, si sporca paurosamente, in cui galleggia di tutto, schiuma, buste in plastica, escrementi, tranci di pizza, cibo, arbusti, una fogna, verrebbe da dire, nella quale è impossibile e rischioso fare il bagno. Qualche mese fa la polizia locale di Palmi ha fatto chiudere un autolavaggio perché scaricava in mare i liquami, ma oggi il problema si ripropone con più forza. Il sindaco Giuseppe Ranuccio, preoccupato, si è messo subito in moto, soprattutto sollecitato dai social, dove si registra una indignazione generale. Da qualche giorno, spiega il primo cittadino, ci sono state segnalate le condizioni non idonee alla balneazione del nostro tratto di mare. L'amministrazione comunale ha già da tempo attenzionato il problema, attivando le autorità competenti per una celere risoluzione della criticità. Consapevoli dei disagi ad essa dovuti, aggiunge ancora l'amministratore, abbiamo attivato una fase di monitoraggio e di indagine per far sì che le cause di origine dello spiacevole fenomeno siano presto note. Come amministrazione, proseguo ancora, abbiamo dato mandato al nostro corpo di polizia locale di svolgere tutte le indagini del caso affinché le cause dello spiacevole fenomeno vengano presto individuate. Siano queste da imputare a scariche ed allacci abusivi alla rete fognaria o a guasti alle condotte o a sversamenti illeciti. Diretti dal comandante Francesco Managò, con il supporto degli uffici comunali, gli agenti di polizia sono al lavoro per l'individuazione delle cause illecite. Stiamo facendo di tutto per tutelare il nostro splendido mare e le nostre coste, ha osservato ancora il sindaco Ranuccio. Aggiorneremo presto la cittadinanza al riguardo. Speriamo questa volta, diciamo noi, positivamente.